Ragazzi buona serata a tutti, Kenan Hildiz ha ufficialmente firmato il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2029 se non vado errato ed è ufficialmente il nuovo numero 10 della Juventus, quindi Hildiz, non Hildiz ma Kenan Hildiz A parte le stronzate mettete in piaccia il video prima cosa fare mi raccomando per supportare gratuitamente il canale mettete in piaccia il video e adesso parliamo un attimo di questa situazione qua Allora come sapete benissimo a me della 10, della 9, della 7 non me ne frega un cazzo non è più quel periodo là dove la 10 aveva veramente un significato importante dopo del Pierre tutte queste robe qua, sta di fatto che sicuramente dare un numero del genere a un giocatore che secondo me deve dimostrare ancora tanto, non ha ancora dimostrato nulla, può da una parte essere un po' visto male sotto quell'aspetto là, ma dall'altra io posso, anzi io ho questa opinione qua abbiamo visto con Di Bala, no? Di Bala aveva dimostrato tanto con la 21 aveva fatto tanto bene, non chissà che grandi cose ma aveva fatto bene data la 10, ha sentito la pressione la 10, è finito adesso per come la vedo io a Ildiz anche se gli dai la 10 non ti aspetti chissà che cosa perché Ildiz ripeto deve ancora dimostrare molto e quindi potrebbe essere, potrebbe essere una scelta anche azzeccata perché potrebbe il giocatore crescere con la 10 quindi crescendo lui a livello di prestazioni, di giocatore e quant'altro con il numero 10 sulla schiena, ok? potrebbe non sentire più il peso della 10 perché potrebbe crescere insieme al numero 10 quindi da un'altra parte io credo che sia una scelta sicuramente magari di, diciamo, brand, quello che vogliamo ma non è così sbagliatissima adesso qualcuno mi dirà, eh ma tu giustifichi no, il problema sapete cos'è? che io sto vedendo si può dire, no? può venire fuori la notizia giuntoli a prendere un caffè che ci si incazza perché? perché non sta lavorando, ok? giuntoli fa questo e ci si incazza McKennie ci si incazza il di tradici ci si incazza cioè, allora ci si incazzava, no? con il discorso Allegri e quant'altro adesso io capisco tutto, no? ma non ci si può incazzare per tutto, eh? perché io credo di essere equilibrato non ottimista non aziendalista io credo di essere diciamo equilibrato perché le critiche vanno fatte sulle tempistiche e quant'altro ma qua sembra che ormai c'è il mercato è stato disastroso che noi arrivavamo da nove anni, dieci anni di vittoria e che giuntoli ha fatto disastri distruggendo una squadra sapete chi ha fatto quella roba lì? Beppe Marotta Beppe Marotta e poi Paratici ma Paratici aveva delle cose delle defezioni da sistemare proprio lasciate a Beppe Marotta che voi esaltate in questo momento qua perché noi avevamo un impero e Andrea Agnelli e Beppe Marotta che l'hanno costruito bravi loro poi hanno avuto il grandissimo demerito di distruggere tutto eh c'è una grandissima differenza comunque vabbè per quanto riguarda la 10 di Ildiz sono contento che abbia rinnovato si parla di un milione di euro parte fissa più uno di bonus sembra che abbia il ragazzo chiesto agli agenti di non forzare troppo la mano per chiudere il primo possibile questa trattativa perché gli agenti avrebbero chiesto due milioni di parte fissa mentre Juventus ne offriva uno alla fine si è arrivato in un compromesso un milione più uno di bonus e ovviamente credo che sia anche giusto quindi con questa numero 10 di fatto si centralizza ancora di più il progetto su Kenan Ildiz probabilmente anzi sicuramente comunque sarà quindi il titolarissimo o poco ci manca della Juventus e non dico io non do pressione al giocatore ragazzo perché è giusto non darle anche se ripeto un numero importante per molti io sognavo sempre di avere la 10 ce l'ha avuta del Piero quindi ok poi Ildiz è stato battezzato tra virgolette anche da del Piero quindi sotto quell'aspetto la non lo so ripeto questo è un argomento che ognuno può avere un'opinione diversa a me sinceramente frega cazze cioè non mi fa ne caldo ne freddo ok certo finalmente rivedere la 10 sulle spalle sulla schiena di qualcuno fa piacere che sia un ragazzo di quell'età lì da una parte può essere un po' avventata come scelta dall'altra può essere promettente può essere ambiziosa può essere insomma vedremo il tempo dirà che se hanno sbagliato non hanno sbagliato questo sicuramente però per come la vedo io se un giocatore a personalità per carità poi Yamal l'ha rifiutata a Barcellona ma anche 3 anni meno di Ildiz mi pare cioè Yamal l'ha fatto 17 anni mi pare che ne abbia boh 20 boh non so e lui ha scelto la 19 fra 3 anni magari a Barcellona sceglierà lui la 10 attenzione però va bene così va bene così cerchiamo di la preoccupazione mia è che dovesse diventare forte lo venderanno e io spero che lì la Juventus inizierà a fare la grande squadra trattenendo i propri pezzi dando i soldi gli ingaggi alti giusti a chi se lo merita non all'Adrian Rabiot di turno o al Dusav Lavici di turno che non hanno dimostrato un cazzo in questo momento qua Rabiot ormai fare le balle però giusto per farvi capire altra cosa l'Atalanta si inserisce per Calulu basta l'Atalanta ha rotto il cazzo perché noi abbiamo le nostre defezioni abbiamo i nostri difetti abbiamo sbagliato le nostre scelte le nostre tempistiche quel cazzo che vogliamo ma sembra che ci stiano facendo la lotta all'interno allora Giuntoli e Tiago Motta devono capire che non è che non sono più a Napoli e Bologna per una questione di pressione non sono più a Napoli e Bologna e sono a Juventus per una questione di diciamo rivalità antipatie e odio che hanno nei nostri confronti perché ormai sembra che l'abbiano preso l'abbiano presa sul personale questi qua allora io spero che Giuntoli e Tiago Motta abbiano capito che per i mercati futuri il mercato al 95% va fatto all'estero anche se comunque non è che abbiamo fatto chissà che mercato in Italia però va fatto soprattutto principalmente all'estero perché lì trovi giocatori che secondo me potenzialmente possono essere anche più forti di Coppe Miners o di Nico Gonzalez e ti costano anche meno a livello sia di ingaggio che di cartellino ma bisogna andarli a scovare questi giocatori questa era la peculiarità di Giuntoli del suo staff anche se comunque De Micheli non era del suo staff ma del Napoli quindi questo gli si chiede qua per me ha sbagliato ma per il resto gli esuberi non esuberi per me ha fatto bene perché ad esempio su McKennie vedremo poi se c'è l'ufficialità ma dovrebbe esserci l'ufficialità ha vinto Giuntoli punto ha vinto Giuntoli se chi dice il contrario mente ragazzi ha vinto Giuntoli perché McKennie era messo fuori rosa non per una questione di progetto tecnico ma per una questione di stipendio poi ha fatto quella scelta che abbiamo tutti criticato sul discorso a Stoneville siamo tutti d'accordo va bene però poi alla fine se il giocatore capisce e probabilmente anche il fatto che noi l'abbiamo messo fuori rosa gli ha fatto capire che squadre che gli offrono quei soldi là che voleva lui che avrebbe voluto lui non ci sono quindi o se vuoi rimanere qua o ti abbassi le pretese dei 5 milioni e quindi accetti la nostra offerta di aprile o tu fai un anno in tribuna però è una questione di non a livello tecnico che ripeto a livello tecnico e tattico Motta lo apprezza lo stima e ci ha parlato lui e questa cosa ripeto mi piace molto di Motta e quindi così per me è stata gestita alla perfezione quella cosa lì anche degli esuberi io questa roba qua non sono mai d'accordo sul discorso degli esuberi non bisognava parlare in pubblico per me non è così perché a un certo punto devi fare una rivoluzione devi mettere con le spalle al muro certe persone e poi vedrai che poi se Chiesa non dovesse rinnovare il contratto non dovesse cercare una squadra alle nostre condizioni ovviamente rinnovare il contratto la Juventus lì dovrà metterlo in tribuna perché dovesse rintegrarlo in rosa lì allora si criticherà lo premetto già ma Romeo Gresti oggi ha riportato che nell'ambiente Juventus da quello che trappela lui sono molto tranquilli sono sicuri di riuscire a sistemare le cose principali entro a fine nel mercato e voglio essere fiducioso perché loro sanno insomma quello che stanno facendo noi non lo sappiamo non possiamo saperlo e che gli esuberi solo McKennie ha una possibilità di rientrare in rosa gli altri no solo sulla situazione McKennie può cambiare qualcosa ecco questo è niente carissimo Kenan Ildiz che purtroppo non ti ho non ti sono venuto a trovare quando eri qua vicino vai mi raccomando senza pressioni tranquillo gioca come sei tu l'unica cosa che devi migliorare è fare cioè avere l'intelligenza calcistica del fare le cose facili quando vanno fatte le cose difficili quando vanno fatte non cercare sempre la giocata difficile il grande giocatore non è quello che fa la giocata diciamo facile e la fa sembrare difficile è quello che fa sembrare no forse ho sbagliato no è quello che fa sembrare la giocata difficile e facile no è giusto è giusto sono incoglionito sono incoglionito quindi questo è ok mi raccomando Kenan non ti dico onora la 10 quant'altro gioca come sai giocare punto per il resto fregatene dei commenti fregatene delle pressioni vai in campo divertiti e farci e facci divertire soprattutto mi raccomando tu la squadra ti amo motta eccetera eccetera niente fino alla fine forza di vento se ci vediamo ovviamente con ulteriori aggiornamenti che speriamo arrivino il prima possibile per quanto riguarda soprattutto Nico Gonzalez e Coop Maners poi per quanto riguarda Caluru ma che cazzo sei Caluru oh che cazzo sei eh adesso l'Atalanta si inserisce vabbè vai vai l'Atalanta noi aspetteremo l'ultima settimana di mercato per prendere un difensore in prestito perché alla fine stiamo cercando quello e credo che difensore in prestito a livello di Caluru li troviamo ok con caratteristiche simili magari purtroppo dobbiamo andare solo con i prestiti per quel ruolo là quest'anno prossimo anno magari si spenderà purtroppo è così però chi cazzo sei Caluru dai ma chi cazzo sei guarda questi giocatori per un anno fatto bene si montano la testa ed è questa proprio la rovina dei giovani di adesso che basta veramente due partite fatte bene si sentono fenomeni devo avere la garanzia di giocare perché almeno non ce l'hai Fonseca hai sentito cosa ha detto oggi andrà all'Atalanta perché l'Atalanta sapete cos'è che l'Atalanta con il discorso Scalvini gli dà la garanzia di giocare molto probabilmente la Juventus questa garanzia non gliela dà anche se poi dici ma chi cazzo gioca a posto suo gatti cioè se Motta dovesse riuscire a far sembrare un giocatore di calcio gatti ragazzi bisogna fargli una statua ve lo dico vabbè detto questo buona sera da tutti